Questa settimana vogliamo concludere questo nostro studio nella profezia di Osea. Abbiamo fatto veramente una maratona in quattro settimane, quattordici capitoli. Oggi faremo gli ultimi quattro. Osea significa salvezza. E Dio ha chiamato questo profeta del sud, Giuda, di andare al nord, Israele, che già magari con l'accento non era ben accettato, ma di andare al nord, di predicare. E poi il suo messaggio era un messaggio di condanna. Ormai avete fatto troppo. Abbiamo visto l'illustrazione nel primo capitolo, stranissimo per noi, dove Dio ha detto a Osea di sposarsi con una prostituta. E da lei di avere tre figli. Ha messo tre nomi e tutti questi nomi avevano a che fare con la condanna che Dio minacciava su questo popolo per poi dimostrare che Israele si era comportato da prostituta. E era Dio che, come un marito veramente benevolo, era poi andato a riprendere questa moglie infedele, implorandola a tornare, promettendola di essere il marito più bravo nel mondo. E quindi Osea predica un messaggio di condanna, ma allo stesso tempo, come troviamo sempre nei profetti, insieme alla condanna c'è la promessa di restaurazione, di perdono se questo popolo si ravvede. In capitolo 11 e di Osea che vorrei leggere adesso troviamo la storia di Israele dalla sua infanzia. Osea, capitolo 11 Quando Israele era fanciullo, io lo amai, e chiamai mio figlio fuori d'Egitto, egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo amava, chiamava. Hanno sacrificato a balli, hanno bruciato incenso a immagini scopite. Io insegnai a Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il gioco dalle macelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spara sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne devorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboeim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo. Sono il Santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Essi seguiranno il Signore, che ruggerà come un leone, poiché Egli ruggerà e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente. Accorreranno in fretta dall'Egitto, come uccelli, e dal paese da Siria, come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Padre, chiediamo in questi momenti che la Tua parola scritta così tanto tempo fa in una situazione precisa nella vita del popolo di Israele possa essere anche per noi oggi un incoraggiamento quando vedremo di nuovo la grandezza del Tuo amore e del Tuo perdono per il Tuo popolo errante. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Questo capitolo comincia parlando del rapporto tra Dio, Yahweh, e il suo popolo. Questo popolo era l'oggetto dell'amore di Yahweh. Però dimostrò tanto, tanto ingratitudine. sappiamo quanto è brutto l'ingratitudine. E noi genitori dobbiamo stare attenti di coltivare nei nostri figli un atteggiamento di gratitudine. mi ricordo sempre un episodio quando ero bambino eravamo insieme con i cugini per la Pasqua e casa nostra noi eravamo i sette figli quindi regali per Natale se andava bene qualcosa così ma a Pasqua niente e stavamo con questi cugini c'era un cugino che i suoi genitori hanno tirato fuori un sacco di regali per lui per la Pasqua e noi stavamo tutti a guardare questo figlio con tutti questi regali e alla fine ha detto ma ebbè tutto qua noi dobbiamo stare attenti anche noi genitori di non dare troppo ai nostri figli certo Dio aveva dato tanto ma tanto a Israele e la sua risposta purtroppo era una risposta di ingratitudine dice chiamai mio figlio fuori d'Egitto Israele era in schiavitù e Dio ha fatto sì che quel popolo potesse uscire da quella schiavitù e lì è stato chiamato ma si è allontanato da chi lo chiamava chiamati da Dio per uscire da Egitto ma ben poco tempo era passato anzi Mosè stava su Sinai ricevendo la legge e già loro si organizzavano con una un idolo una statua ben presto si erano allontanati hanno sacrificato a Bali ai vari Bali ho detto che Bali era il nome di una divinità significa padrone ma aveva varie forme un po' come in Italia abbiamo tante madonne diverse lì c'erano tanti Bali diversi oggetti di culto hanno bruciato incenso a immagini scopite qui erano andati proprio lontani dal Dio che li aveva riscattati io insegnai a Efraim a camminare sto reggendolo per le braccia e qui c'è l'immagine mi commuovo perché ho dei ricordi bellissimi di un papà che aiuta il figlio con la figlia a fare i primi passi lo tieni per il braccio per mano e fai i primi passi perché vuoi che quel figlio cresce che diventa autonoma che diventa grande ma deve fare i primi passi con l'aiuto di papà Dio dice io vi ho aiutato come un padre a fare quei primi passi eppure essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli non erano riconoscenti di quello che Dio faceva nella loro vita quante volte sentiamo storie brutte di figli che crescono e alla fine abbandonano i genitori non vogliono avere più che fare con i genitori dopo tutti i sacrifici della vita nella crescita di quel figlio e qui dice Dio io ho fatto tutto questo per voi eppure mi avete abbandonato nelle prove del deserto questi a piedi come un bambino i primi passi Dio li aiutava nel deserto provvedeva per loro anche se doveva castigarli per 40 anni nel deserto a motivo della loro mancanza di fede nel guidarli con gentilezza e amore il mio cuore si commuove tutto dentro di me dice Dio lui li guidava con amore affetto per questo popolo io non sfogherò la mia ira ardente non distruggere Efraim di nuovo dice Dio io non farò come farei che se io fosse un padre umano se fossi un uomo mi farei tutti fuori non farò così dice Dio anche il versetto 4 un bellissimo pensiero dice io li attiravo con corde umane con legami d'amore ero per loro come chi solleva il gioco delle mascelle e porgevo loro dolcementi da mangiare qui c'è Dio che tirava con amore tirava avanti questo popolo con amore con corde umane con legami d'amore li portava avanti e dice ero per loro come chi solleva il gioco dalle mascelle sapete che nei tempi antichi sulle bestie mettevano un gioco pesantissimo che era collegato anche alla bocca in un certo senso teneva ferme che dovevano stare lì e dice Dio io io tiravo su questo gioco alleggerivo i pesi che voi portavate facevo tutto per voi per alleggerire la sofferenza anche se era dovuta alla vostra infedeltà infedeltà poi in questo amore che Dio dimostrava il popolo rifiutava continuamente di tornare a lui eppure Dio dimostrava sempre misericordia dice versetto 8 come farei a lasciarti io sono papà come posso lasciarti andare in rovina come posso darti in mano altrui come posso farlo dice Dio come potrei rendere simile poi queste due civiltà che sono stati distrutti come posso fare così il mio cuore si commuove tutto dentro di me questo è il cuore di un papà che ama suo figlio ribelle non sfogherò la mia era non distruggerò Efraim come dovrei fare perché sono Dio e non un uomo sono il santo in mezzo a voi io sono Dio sono Dio e poi con la conversione invece con la conversione cambiare strada radicalmente poteva godere un futuro dice io li farò abitare nelle loro case li rimetterò nella loro terra dopo tutto il momento di di punizione che devono passare in capitolo 12 vediamo Israele nella sua maturazione nella sua crescita e gli errori che fa prima parla di mancanza di pentimento parla di odio per la correzione devo ammettere quando mio papà mi dava con la cinta di cuoio non stavo lì a dire grazie papà grazie no però dice il signore dopo produce il frutto della giustizia e quindi questi si ribellavano contro la correzione del signore dimenticando le benedizioni del passato quando noi scendiamo nella disubbidienza a Dio anche come credenti ci dimentichiamo di tutto quello che Dio ha fatto per noi nel passato e qui parla del passato di Israele dove versetto 4 di capitolo 12 nel grembo materno egli preso il fratello per Caccagno ricordate questi due gemelli Giacobbe chiamato Israele e Esau Esau veramente doveva nascare prima però il fratello è riuscito poi lui a sostituirlo si può dire a prendere il suo posto nella benedizione di Dio poi lo stesso Israele lottò con Dio con l'Angelo e c'è quella storia bellissima aveva paura che doveva incontrare poi questo Esau che gli voleva far fuori e aveva paura e quella notte ha lottato con Dio e restò vincitore Dio aveva benedetto Israele e gli pianse e lo supplicò pianse davanti a Dio e ha avuto questa grazia a Bet vuol dire case di Dio questo posto abbiamo visto la settimana scorsa che era diventato Bet Aven posto di iniquità anziché case di Dio poi dice Dio versetto 7 tu dunque torna al tuo Dio pratica la misericordia e la giustizia e spera sempre nel tuo Dio qui c'è il modo di dimostrare una vita cambiata certe volte persone dicono io ho pregato una volta a Gesù quindi sto opposto no la salvezza non si risolve con una preghierina o qualcosa così la salvezza significa una vita cambiata ravvedimento e fede e dice qui Dio devi dimostrare devi dimostrare misericordia devi dimostrare misericordia e giustizia e devi sperare sempre nel tuo Dio qui vediamo passato tornando al Signore presente praticare giorno per giorno la giustizia e poi alla fine il futuro sperando sperando nel Signore per il futuro purtroppo verso 8-10 vediamo di nuovo che trascurando il messaggio di Dio e i messaggeri che Dio aveva mandato a questo popolo ha portato al disagio Dio dice io sono il Signore il tuo Dio fin dal paese d'Egitto io ti farò ancora abitare in tende come nei giorni di solennità ho parlato ai profetti ho moltiplicato le visioni e per mezzo dei profetti ho proposto parabole quindi Dio aveva parlato ai suoi in tutti questi modi poi capitolo 13 parla dell'umiliazione di Israele che doveva subire a motivo della sua continua disubbidienza quando Efraim parlava inculteva spavento egli si era inalzato in Israele chi era Efraim Efraim era il figlio il secondo figlio di Giuseppe che è diventato poi una delle tribù di Israele per grazie perché sarebbe invece il primo figlio più importante invece Efraim ora continuano a peccare fanno con il loro argento delle immagini diffuse idoli di loro invenzione che sono tutte opere d'artetici qui parla dell'idolatria in cui era caduto questo popolo scandano uomini e baciano vitelli che strano uccidevano persone anche come sacrifici e baciavano queste statue questi vitelli li baciavano come vediamo immagini oggi di persone che baciano le statue che baciano le statue facevano così perciò saranno come la nuvole di mattino come la rugiada del mattino che presto scompare come la pula che il vento porta via dall'aia come il fumo che esce dalla finestra sono tutte cose che passano non c'è sostanza come questo popolo come punizione per la sua disubbidenza a Dio quindi sarebbe stato umiliato da Dio perché avevano dimenticato l'unicità del loro Dio hanno preso altre divinità adoriamo Yahweh e poi anche questi tanto per essere sicuri no avevano dimenticato che lui è l'unico Dio versetto 4 eppure io sono il Signore il tuo Dio io fino dal paese d'Egitto tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me all'infuori di me non c'è altro salvatore non possiamo anche noi pensare di altre cose quando abbiamo le difficoltà cosa facciamo cerchiamo di risolvere parliamo con amici c'è un amico potente chiamo lui è un politico è una persona importante invece il primo nostro passo cosa dovrebbe essere Signore aiutami tu aiutami aiutami e poi parla un'immagine questo libro pieno di immagini che ci fanno capire cosa vuole dire parla di questo vecchio e froce leone sono diventato per loro come un leone e qui leone è l'immagine della fortezza interessante che questa parola è Shekel è la moneta che forse anticamente aveva l'immagine di un leone di Giuda Shekel un vecchio e feroce leone un leopardo un leopardo cosa è un leopardo non è altro che un grande gatto sappiamo che i gatti sono furbi sono intelligenti e il leopardo quando arriva alla preda lo fa pian pianino cioè il leone lui arriva lì e fa ma il gatto pian pianino e poi prende un leopardo un orso un orso furioso un orso una madre un orso che ha fatto dei figli potete immaginare trovarsi in un bosco con un cucciolo di orso e con la madre lì sono feroci nella difesa dei loro quindi Dio parla del modo in cui lui deve trattare questo popolo che va verso l'autodistruzione versetto 9 la tua perdizione Israele l'essere contro di me contro il tuo aiuto tu voi vi siete messi contro colui l'unico Dio che poteva salvarvi e poi parla di sofferenza al risultato del peccato e la loro ribellione continua magari queste cose però capitolo 14 arriviamo alla fine arriviamo al punto che Dio sempre dopo tutte le minacce dopo tutta la sofferenza dovuto al peccato di questo popolo offre di nuovo perdono o Israele torna al Signore al tuo Dio poiché tu sei caduto per la tua iniquità le sofferenze tuoi non sono colpa mia dice Dio siete voi che avete scelto di fare così preparatevi delle parole prima c'è da tornare a Yahweh e poi prepararsi per quel che volete dirvi certe volte noi dobbiamo fare una conversazione importante prima di farlo magari prendiamo qualche punto perché se no uno perde il filo e non dice quello che voleva veramente dire Dio dice preparate bene quello che mi dovete dire preparatevi preparate le parole sincere e poi ravvedetevi tornate tornate al Signore e il ravvedimento la conversione conosciamo bene cos'è vuol dire che una volta andavi in una direzione ma per la grazia di Dio vi siete girati adesso andate nella direzione opposta dice Dio al suo popolo cambiate strada cambiate direzione tornate a Yahweh e pregare e questa preghiera è una preghiera per perdono perdonoci perdonoci è una preghiera di adorazione dice accetta questa offerta di lode versetto 2 un'offerta che noi offriamo non con cuore impuro ma con cuore pulito ravveduto accetta questa nostra offerta dice non non saleremo più la Siria non ci salverà noi non saleremo più sui cavalli qui avevano messo la loro fiducia in altre nazioni nei cavalli che erano i mezzi di battaglia in quei tempi noi abbiamo messo fiducia in altre cose signore perdonaci non metteremo più la nostra fiducia in queste cose non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani lasceremo l'idolatria noi diciamo ma noi non faremo ma è così vi chiedo solo questo che cosa c'è nella vostra vita che vi impedisce di stare insieme con i fratelli che cosa c'è può essere famiglia può essere tante cose cosa c'è che ti impedisce di prendere il tuo tempo col Signore tutti i giorni cosa c'è quella cosa è un idolo è un idolo e dice qui non diremo più Dio nostro alle opere delle nostre mani poiché presso di te l'orfano trova misericordia qui avevano capito che presso il Signore potevano essere accolti anche se l'avevano abbandonato anche se avevano peccato contro di Lui presso di Lui potevano avere misericordia misericordia poi Dio risponde e fa delle promesse quando noi col cuore puro cuore cambiato torniamo a Dio e chiediamo perdono Lui agisce non sta mai lì per dire beh ormai l'avete fatto no Lui accoglie e così dice Dio versetto 4 io guarirò la loro infedeltà io li amerò di cuore poiché la mia ira si è distolta da loro hai mai pensato ormai ho fatto troppo ormai Dio non mi può più perdonare non è vero però finché non abbandoni il peccato Dio non ti perdona però quando abbandoniamo il peccato e chiediamo il perdono Dio ci perdona amerò abbondantemente togliendo la mira non sarò più non sarò più furioso con voi per il vostro peccato sarò come la rugiada e qui la rugiada è una cosa che rinfresca la mattina e dà piacere sarà come la rugiada spanderò le sue radici aiuterò di nuovo questa pianticella Israele a prendere radici e a crescere a crescere esaudirò e veierò su di lui quindi Dio riprende il suo impegno e promette la sua fedeltà a questo popolo quando si ravvede e poi finisce parlando delle vie dell'eterno di Yahweh versetto 9 chi è saggio ponga mente a queste cose chi è intelligente le che riconosca poiché le vie del Signore sono rette i giusti cammineranno per esse ma i trasgressori vi cadranno quindi dice alla fine Dio riflettete saggi voi rifletterete nell'Apocalisse dice chi ha orecchi ascolti chi può capire e gli intelligenti riconosceranno riconosceranno le mie vie gli stolti no lo stolto e dentro il cuore non c'è Dio ma gli intelligenti sì e poi sarà una via da camminare per i giusti i giusti andranno avanti con fedeltà uno dice ma chissà se una persona è veramente incredente o no purtroppo Dio conosce i nostri cuori e qualcuno magari ogni tanto se ne va se non torna mai non conosceva Dio i veri figli di Dio si riconoscono perché arrivano all'arrivo arrivano fedeli al Signore quando il Signore gli chiama sono pronti in attesa che noi non cadiamo nell'errore di Israele abbandonando colui che per noi è tutto ma che possiamo essere fedeli a Lui anche nelle prove della vita sapendo che alla fine avremo la gioia di stare con Lui per sempre preghiamo Padre grazie per la Tua parola anche queste lezioni della storia ci fanno capire quanto è facile per noi allontanarci quanto è facile per noi mettere la fiducia in cose sbagliate e chiediamo il Tuo aiuto di essere fedeli quando riconosciamo di essere allontanati di chiedere il Tuo perdono e di tornare per essere utile per te essere una benedizione agli altri e soprattutto per essere una persona che ti dà gioia e piacere nel nome di Gesù preghiamo Amen grazie a tutti grazie a tutti